Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C, ok? Ti chiedo durante la preghiera, adesso faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele, di mettere la mano sul tuo cuore, di chiedere ai tuoi angeli, alla tua anima, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per te e per il tuo massimo. Bene, potrebbero essere due, due gruppi o addirittura tutti e tre, quindi segui il tuo sentire e ascolta cosa gli angeli hanno da dirti. Invocco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono questa lettura. Invocotea, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di aiutarci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e ti chiedo di creare uno scudo di protezione dentro di noi, intorno a noi, affinché possa entrare solo luce, amore, pace, guarigione, verità, saggezza e integrità e che tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore sia lontani da noi e da questa esperienza ora, per sempre e per l'eternità. Grazie a Dio Dea Padre e Madre, grazie all'Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, all'intera coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, vediamo le carte degli unicorni, abbiamo gruppo A, che è Credi, credi, vediamo, abbiamo sia le carte degli unicorni, le carte dell'Arcangelo Michele e questa volta ho scelto come terzo mazzo lo scopo nella vita. Ok, andiamo a vedere gruppo B, abbiamo Gentilezza, ok, Gentilezza per il gruppo B, vediamo, gruppo C, avventura. Bene, vediamo le carte dell'Arcangelo Michele, cosa vogliono dirci. Amore eterno, gruppo B, tu e i tuoi cari siete al sicuro, gruppo C, vediamo un po' cosa ci riserva. Prenditi il tempo per decidere. Vediamo ora le carte dello scopo nella vita, naturalmente è solo una carta per gruppo, però diciamo possono essere dei messaggi importanti, luce e amore, sei un operatore di luce e di amore, ok, per il gruppo A, vediamo. Vorrei che mi scriveste sui commenti se volete che io riprenda a fare le letture generiche con tre mazzi che riguardano tutto e tutti o se vi piace questa modalità del gruppo A, gruppo B e gruppo C, ok? Bene, per il gruppo B abbiamo il supporto da parte degli angeli, dell'Arcangelo Michele, delle tue guide superiori. Vediamo per il gruppo C, gruppo C sensibilità. Ok, iniziamo la nostra lettura col gruppo A, abbi fiducia perché tutto sta andando esattamente e tutto è come deve essere, tutto sta andando nella maniera più sincronica e perfetta possibile, hai pregato tanto perché possa manifestarsi una certa cosa nella tua vita, un dato evento, un lavoro, una relazione, assolutamente abbi fede fiducia perché assolutamente questo è mandato dal cielo, tutto ciò che ti sta capitando è la risposta alle tue preghiere, risposta al tuo scopo divino della tua anima, quindi abbi fede fiducia che veramente anche questo amore, questo grande amore è un amore vero, puro e sincero, un amore dell'anima, è un amore che ti sta guidando, ok? Datemi un secondo. Hanno suonato il campanello, quindi questo è un amore vero, puro e sincero, è un amore guidato dalla da Dio, è un amore guidato dall'alto, è possibile che questa sia la tua vera anima gemella, veramente riponi fiducia in questa relazione, prega tanto per tutti i problemi che ci sono stati, diciamo che se tu pregherai, chiedi la protezione dell'arcangelo Michele, se tu vivi una vita in nome dell'amore, solo luce e amore può arrivare nella tua vita, tu sei un operatore di luce e di amore e meriti la luce e l'amore che il creatore ha scelto per te, che tu hai scelto prima di incarnarti in questa vita, il tuo scopo divino è proprio quello di portare guarigione, luce e amore nel mondo, quindi questa relazione che possa essere un compagno di vita, che possa essere una partnership di lavoro, che possa essere una relazione molto profonda dell'anima, assolutamente guidata dall'alto, quindi abbi fiducia, amore eterno, luce e amore, quindi assolutamente questa è la via giusta, non avere dubbi, questa è la direzione giusta da percorrere per te nello specifico, ok? Bene, passiamo al gruppo B, gruppo B gentilezza, si gentile con te stesso, con te stessa e con le altre persone, onora la tua gentilezza, al giorno d'oggi non sono tante le persone gentili nel cuore e nell'anima, veramente abbi, dai, date una pacca sulla spalla perché sei un'anima gentile, sei un'anima armoniosa, sei un'anima che porta amore e compassione nel mondo, quindi veramente sia orgoglioso, sia orgogliosa di te stessa, ok? C'è bisogno che tu porti i tuoi messaggi di amore, le tue parole d'amore nel mondo, c'è bisogno di te, operatore di luce, operatrice della luce, ok? Devi stare tranquilla che sei protetta, tu e i tuoi cari siete al sicuro e questo progetto della tua anima è guidato dall'alto, la tua missione di vita è veramente guidata da un potere molto più grande di te, tu sei al sicuro, tu sei protetta, i tuoi cari sono al sicuro e c'è un grande supporto da parte degli angeli in questa data situazione, nel tuo scopo nella vita, in quello che tu stai facendo oggi, in quello che tu stai pregando per manifestare assolutamente sei supportata, questa è la strada giusta, vai avanti nel tuo sentiero, veramente non dubitare di te stesso o di te stessa, sii gentile con la tua persona e con la tua anima perché sei guidato, sei guidata e quindi vai avanti, non tirarti indietro, non guardare indietro, non fermarti, questa è la via, ok? Bene. Allora, per il gruppo C abbiamo avventura alle porte, quindi assolutamente c'è tanta gioia, tanto divertimento, una grande avventura che sta per manifestarsi nella tua vita, potrebbe essere un viaggio, un nuovo lavoro, una nuova opportunità, un nuovo inizio per te, ok? Anche quello che già stavi facendo lo puoi fare in una modalità nuova, una rinascita per te, ok? Manifesta i desideri, i tuoi desideri, dati il permesso di manifestare i tuoi sogni nel piano della materia. Per alcune persone potrebbe essere il trasferimento in una nuova città, abbi il coraggio di rischiare. Questa è la direzione giusta, naturalmente non devi sentirti forzato, non devi sentirti forzata, prendi il tempo per meditare e per decidere cosa è più giusto per te. Una cosa è certa, la via è quella giusta, però voglio dire prega, chiedi aiuto, guida ed assistenza all'Arcangelo Michele, loro ti guideranno, ti supporteranno. Diciamo che sei un po' indeciso, indecisa, anche perché sei un'anima molto sensibile alle energie e alle volte anche se dentro hai la forza nel cuore che ti spinge, poi la mente mente, la mente ti distrae, la mente ti confonde e quindi entri in confusione. Purificati per questo, proteggiti, fai tutte le preghiere di protezione, di liberazione, di purificazione. Le ho messe a disposizione gratuita nel mio sito connessioneangeliche.com, risorse gratuite e le trovate anche qui su YouTube nella playlist delle preghiere. Ecco, queste preghiere sono molto molto potenti, vi possono aiutare a liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di essere un tutt'uno con l'amore, di essere un tutt'uno con la vostra anima, di prendere le decisioni giuste, di sentirvi in allineamento mente, emozioni, anima, cuore nella direzione del vostro scopo nella vita. Bene, per questa settimana la lettura si è conclusa, io vi auguro una settimana piena di gioia, di felicità, di abbondanza, di nuove opportunità, di lune nuove, veramente approfittate di questa energia potente che c'è nell'aria. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture connessioni angeliche come connessione diretta o come con l'utilizzo delle carte, mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico di persona se si è tavalghero a distanza in qualsiasi parte del mondo dove voi vi troviate, vi trovate, ok? Volevo ricordarvi che il nuovo corso di connessioni angeliche per imparare a connettersi con gli angeli inizierà il 18 di settembre. Sono sei settimane super intense, un percorso strepitoso con tutti i bonus e dei regali pazzeschi da parte mia per voi, quindi veramente si sono liberati tre posti, quindi veramente avete ancora tempo per iscrivervi a questo corso meraviglioso, per imparare a connetterti con gli angeli nel modo giusto, anche se sei già un canale di luce, già canalizzi, io ti insegnerò il modo per accedere alle frequenze più elevate in assoluto nella maniera più protetta e sicura, ok? Poi se invece vuoi imparare a lavorare con le nuove frequenze di luce, a interagire con esse, vi consiglio di iscrivervi al corso di nuove settimane che inizierà il 18 di ottobre. C'è tempo, nove posti disponibili, è una classe composta massimo da dieci partecipanti, quindi se stai prendendo in considerazione l'opportunità di iniziare questo percorso meraviglioso, contattami privatamente. Se invece vuoi fare un percorso di guarigione, di riallineamento alla tua anima per uscire dai blocchi, dalle credenze limitanti, dai traumi del passato, oppure vuoi fare un percorso di manifestazione con logo ceiling, contattami perché ci sono dei percorsi molto molto interessanti per te e lavorerai one to one a stretto contatto con me. Bene, io vi saluto, vi auguro una settimana strepitosa, a presto, alla settimana prossima, un bacione, ciao!